Buongiorno a tutti, mi ricollego un attimo anche all'intervento precedente in cui parlavamo proprio di individuare delle aree in cui andare a ammirare le nostre campagne di sensibilizzazione per renderli efficaci e quindi sicuramente da questo punto di vista è fondamentale la collaborazione con le amministrazioni comunali, da qui questo progetto del Comune Audio Protetto. Perché innanzitutto il Comune Audio Protetto? Diciamo che per prima cosa c'è un aspetto normativo da considerare in quanto senza dilungarci troppo però in estrema sintesi partendo dalla legge quadro sull'implemento acustico che ha dato responsabilità e competenze ai vari enti quindi Stato, regioni, province e comuni esce fuori da questa legge quadro appunto che le responsabilità in capo ai comuni sono molto importanti da questo punto di vista, cominciando dalla redazione dei piani di disonizzazione acustica per continuare poi a tutte quelle azioni di manutenzione di questi piani quindi eventuali interventi di risanamento dove sono necessari. Quindi innanzitutto le amministrazioni comunali sono chiaramente interessate da questo quadro normativo importante e in seconda battuta e qui diciamo subentro un pochettino il discorso del progetto di questo Comune Audio Protetto, inevitabilmente parlando di sensibilizzazione, parlando di comfort per quanto riguarda gli aspetti acustici, i comuni recitano una parte importante nei confronti dei cittadini, le amministrazioni comunali. Il Comune Audio Protetto nasce proprio da questa volontà, cioè andare a creare un insieme di amministrazioni comunali che scelgono di sostenere queste campagne di sensibilizzazione e soprattutto che siano orientate verso questi temi di cui abbiamo parlato questa mattina. Come avviene questo tipo di come si svilupperà questo progetto? Andando a coinvolgere appunto le amministrazioni comunali tramite ad esempio dei questionari in cui diciamo che tramite questi questionari verranno appunto poste queste problematiche, verranno approcciate queste problematiche ma poi soprattutto da parte delle amministrazioni comunali quello che in qualche maniera si richiede è sostenere queste campagne che non significa solamente ad esempio diffondere la cultura degli screening fra i cittadini, cosa che magari in questo momento già viene fatta, ma soprattutto sviluppare questa consapevolezza della prevenzione negli ambiti più, nella maggior parte degli ambiti possibili. Per esempio, è solamente un esempio, all'interno delle scuole. Abbiamo parlato questa mattina delle problematiche che possono insorgere all'interno delle aule scolastiche per esempio piuttosto che problemi connessi anche con giovani età e quindi naturalmente in questo senso l'amministrazione comunale e i comuni audioprotetti possono sicuramente fare molto. questo è un pochettino il progetto che sicuramente si porterà avanti, ci sarà la necessità di collaborazione di tutti quanti, però penso che sia sicuramente un obiettivo molto importante per raggiungere questo risultato appunto della diffusione a tutti i livelli della prevenzione contro questi disturbi.